Vorrei che il Signore incontrasse con la sua benedizione ciascuno dei gelesi, ogni singolo abitante, perché la benedizione del Signore possa anzitutto elargire in loro un po' di pace nel cuore in questa situazione così drammatica di crisi, di scoramento, che davvero sta anche abbattendo tutti. Però nello stesso tempo, e questo io lo credo fermamente, che ci dia creatività, dia creatività agli imprenditori, dia creatività ai politici, dia forza e creatività ai nostri lavoratori. Poi vorrei ancora raggiungere con questi miei auguri poveri. Quanti poveri. La nostra piccola casa della misericordia è un piccolo segno di questa apertura verso di loro. Perché quanti possono, dei nostri fratelli e sorelle credenti, al di là del fatto che siano cattolici o meno, ma quello che è importante è che dopo aver incontrato il Signore si incontri. Qualcuno che davvero ha bisogno lo si accolga, perché quanti accogliamo abbiamo davvero accolto il Signore, se costoro sono i poveri, perché privilegiati e amici del Signore. Grazie. Grazie.